Che cosa si fa quando si è in America in un posto pubblico e ci si relaziona con persone? Si va da queste determinate persone e si inizia a dire in giro Siete delle merde! Siete delle merde! Merde! Siete delle merde! Siete delle merde! Siete delle merde! Siete delle merde! della mia vita PORI 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 Che cosa si fa quando si è in America in un posto pubblico e ci si relaziona con persone? Si va da queste determinate persone e si inizia a dire in giro siete delle merde! Siete delle merde! Merde! PORI Grazie per la visione Grazie per la visione